Appena il tempo di annunciare il protagonista e sono iniziati i guai per la nuova serie televisiva sul mostro di Firenze. L'ex sostituto procuratore di Perugia Giuliano Mignini infatti ha inoltrato una difida formale con eventuale richiesta risarcitoria milionaria contro Studio Canal, il regista danese Nicolai Arcel e lo sceneggiatore Anders Thomas Jensen, con l'intento di non far distribuire la serie tv in produzione The Monster of Florence. Mignini fa sapere di aver appreso con sommo sconcerto l'idea che si possa girare una fiction da dolci colline di sangue, il libro scritto a quattro mani dall'ex giornalista della Nazione Mario Spezzi, deceduto nel 2016, e dallo scrittore statunitense Douglas Preston che lo vedrebbe tirato in ballo in modo diffamatorio. Nella serie che riprende proprio il contenuto del libro Spezzi, che avrà il volto di Antonio Banderas e Preston, avrebbero identificato il killer in un uomo che sarebbe il nipote di Francesco Vinci, un certo Antonio nato nel 1959, ma ciò avrebbe provocato la ritorzione di un magistrato che nella serie tv dovrebbe essere proprio Mignini. Il legale dell'ex magistrato ha spiegato che d'ora in avanti Mignini non tollererà più che Preston e i suoi collaboratori continuino a deformare la realtà come hanno fatto finora e ad infangare impunemente su scala planetaria l'onore e la reputazione del suo assistito.